Beh, io ovviamente ho qui il conduttore della trasmissione Studio 100 by Night che ci parlerà un po' del loro progetto che riguarda questa sera anche Scanziano Ionico Allora accogliamo con un grande applauso gli amici di Studio 100 by Night Applauso! Eccolo qui! Ciao, come stai? Ciao, come va? Come stai Scanziano? Poi vedi che non sono da solo Ma tu sei in grande la compagnia Così abbiamo richiesto il palcoscenico Sommazza che bello Cioè, potessi dicere una cosa Cioè, prima non cagava nessuno E non si aiuta loro, ma ora la piazza si fa così Adesso arrivano, incominceranno ad arrivare Allora, intanto spieghiamo che cosa stiamo facendo qui Abbiamo girato, quindi intanto ringraziamo l'organizzazione Abbiamo girato nell'ambito della festa padronale Con le ragazze Abbiamo giocato un po' con tutti i colori Infatti loro già ti conoscono, credo C'è una signora che quando ti ha visto Quello lì con il capello full vola beauty full voglio Invece loro, vabbè, vai loro Quindi dicevamo Abbiamo girato all'interno della festa Queste immagini andranno in onda In un contributo speciale Che monteremo nei prossimi giorni A partire dal prossimo giovedì Sul studio centro by night Che va in onda tutte le notti Come si dice? Aspetta un attimo che io sono la specialista Aspetta, diciamo Aspetta, sulla traduzione si noterà No, 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 lei non fa quello che devo dire Un attimo, non interrompere Ma scusa, io mi sento Luca Giurato Quando vedo una bella figliola Così non capisco niente Scusami, eh Vediamo, vediamo che dice Allora, studio centro by night In onda Tutte le notti Dopo la mezzanotte Su studio centro by night Non era così Non dire così perché se non mi spoglio Io me ne vado Fai finta che non c'è nessuno qua, no? Allora, più sensuale Oppure la telecamera Dici Tutte le notti Un attimo Sospirata Che vivi Sospirata Sensuale Tutte le notti Dopo la mezzanotte Su studio centro by night Wow E facciamo un bel applauso Sgraziate Massale Allora, le Denise, le Antonella, Rossella e Naomi Sono quattro delle ragazze di It and Dance Che è una figlia di studio centro by night Che significa? Un contributo Diciamo reso alla musica All'immagine delle ragazze eccetera Venonda invece Alle 12 e mezza Mezzogiorno e mezzo Tutte le domeniche Su studio centro sat Sky 925 E su piattaforma terrestre Al canale 65 Lo vedete Quindi potrete vedere loro E tutto lo staff di intendenza Invece tutte le notti Dopo la mezzanotte Su studio centro by night 1-4-4 E su guariglia risponde No ma è così È una cosa Volevo contribuire anche io Parliamo Eh se vuoi Ci può stare lui Su 200 paese Dai anch'io vengo a su 200 per lei E poi mi tirà la cianca Vediamo un pochettino Fatti fatte lui E vediamo come ti arresti Allora mettiti intanto in mezzo all'ora In mezzo all'ora mi sento bene Voi ragazze corteggiate No? Sì ciao sono il tronista Oh corteggiate Sono il tronista ciao Questa sera sceglierò Tutte le cose Sceglie tutte le quattre No 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 Non sceglierei In casa è sbagliato perché ti dovi Mettere al centro Dai Al centro Parto da qui e poi vado lì Dai facciamo una posa ragazze Una posa plastica vicino alla Mi consenta Da domani Chiamatemi Papi E quindi quando vedo in mezzo a loro Già cambia la voce Insomma divento un altro personaggio Le faccio diventare il ministro Che dice tutti e quattro Ah anche se vogliono Col portafogli Possibilmente perché così Uniamo l'utile altilettevole Come si solita Lo so però purtroppo È passato Brunetta E basso come era Me l'ha rubato con i denti Purtroppo Quindi Portafogli Vabbè comunque Siamo quasi pronti Sì sì siamo quasi pronti Quindi Questo contributo Andrà in onda Dicevo A partire dal giovedì Lo potrete vedere Insieme a tutta la festa Tutto quello che abbiamo registrato Con la ragazza Ci siamo divertite Un po' hanno Simulato Qualche Qualche Cosa speciale Con un po' della gente Di Scanzano Grazie Facciamoci un applauso Facciamo un applauso Della piazza Grazie 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 Ma le ragazze te le ho date No che devi fare Scusi Ha visto che Le ragazze Me le ha dati Sì Puoi dire Quella cosa di prima Che A mezzanotte e mezza Com'era Scusi Tutte le notti Dopo la mezzanotte Su studio 100 Bye Bye Mi scusi Adesso io Cercano di andare avanti Con i mici di Scanzano La serata Ma è difficile Ecco il secondo E cosa prevede Nell'inizio Abbiamo fatto un bel inizio Guarda Loro volevano ballare Ma c'è la possibilità Di farle ballare un po' Abbiamo Il grande fonico Stagio Ma no La discoteca qualunque Facciamo un applauso ai tecnici Con l'occasione Per fare un applauso ai tecnici Che sono veramente Molta Non era preparata Questa cosa Però la possiamo fare La facciamo La facciamo Il direttore artistico Dice Possiamo farle ballare Sì Possono ballare L'uomo del noto ha detto sì Ok Ci siamo Sì Allora perché non ballate Con loro A tenere tempo Forza scherzano A tenere musica Dai Tutta la piazza A cartire Sotto 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti